ciao ragazzi nel video di oggi andiamo a presentare le offerte che arriveranno per i clienti prime il 10 e 11 di ottobre ma prima di questo di presentarmi le offerte appetibili ci sono già alcuni prodotti che sono fortemente scontati io ne ho approfittato e siccome ci sono un po di persone che mi hanno chiesto ma del panamalar facciamo un collegamento con questo quello quell'altro ne ho acquistato un altro l'ho pagato 21 euro e 98 lascerò qui sotto il link in descrizione insieme a tutte le altre state che vi farò vedere dopo andiamo ad aprire insieme il pacchetto contenuto già si sa questa è il primo prodotto che ho preso la confezione è questa molto semplice all'interno della confezione proviamo a paramalare il cavetto e poi andremo a fare un video dedicato in questi giorni per poterlo collegare sia al televisore sia sky q sia all'on theater eccetera 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 altri prodotti che sono andato a prendere perché voglio cambiare le telecamere di casa voglio avere alla fine una sola app un solo prodotto che mi comandi tutto quanto e cosa c'è di più compatibile con il nostro dispositivo se non le telecamere blink telecamere di amazon ho preso il pacchetto che ha all'interno 4 telecamere da esterno più il modulo sync che è il modulo che va a coordinare tutte le telecamere in modo tale che in base alla distanza tutte quante si collegano a questo modulo e questo colloquia direttamente con il wifi di casa che poi trasferirà tutte le informazioni ai vari dispositivi e poi c'era in offerta anche una telecamera da interni quindi visto che il prezzo era sui 134 euro 99 in forte sconto perché si parla di una totalità qui più o meno di 300 euro iniziali una cosa del genere ho preso questi prodotti e anche di queste andremo a fare l'unboxing tutto il video compreso il montaggio e vediamo come si comportano ora mi sposto metto qui di lato il filmato di tutte le offerte perlomeno quelle più appetibili che potrete andare ad acquistare già in questi giorni tenete d'occhio il sito perché per noi clienti prime ci sarà la possibilità anche come nel mio caso di acquistare alcuni prodotti che sono in forte sconto mentre invece tante altre offerte arriveranno nei prossimi giorni e in più ci sarà anche la pagina dedicata per le offerte a tempo ancora più vantaggiose ma che bisogna prendere il volo eccoci qui siamo sulla home page dell'applicazione di amazon e come vedete partono subito questi questi spot dove viene indicato che c'è la festa del prime day allora se notate la prima cosa è l'eco dot di quinta generazione un eco di tutto rispetto che va ad un prezzo di 21 euro questo prezzo è davvero eccezionale provate a pensare finora il prezzo era sui 45 46 euro ma con un prezzo così importante in tanti magari dicono no ma assolutamente non ci penso neanche a spendere quei soldi per accendere spegnere la lampadina perché poi alla fine si pensa a quello ma invece con questa offerta si ha la possibilità di intanto scoprire un prodotto davvero fantastico ma in più ho la possibilità di entrare in questo mondo e capire tutte le potenzialità che ha perché non si accendono e spengono solo le lampadine si possono fare tante tante cose ma proseguiamo abbiamo poi l'eco dot di quinta generazione con orologio a 31 euro prezzo scontato del 51 per cento questo tale quale all'eco dot che vi ho presentato prima di quinta generazione ma con in più l'orologio l'orologio che ha nell'applicazione ricordatevelo bene nelle impostazioni dove c'è il dispositivo registrato avete la possibilità di andare a dire con un flag regola la luminosità dell'orologio in base alle all'ambiente oppure in base agli orari della giornata quindi di notte si abbasserà veramente al minimo in modo tale che se apro gli occhi posso almeno vedere l'orologio e capire che ore sono non mi andrà a dar fastidio perché c'è questa funzione presentiamo adesso questo prodotto che abbiamo semi unboxato prima abbiamo visto quando l'ho tirato fuori dalla confezione questo prodotto è composto da quattro telecamere blink da esterno una telecamera da interno e il sync module il sync module come vi fare 135 euro e 98 e parecchio visto che dicono a quel prezzo non faccio questa spesa ad attualmente a 139 euro e 49 con questa offerta se calcolate che sono quattro telecamere da esterno più una da interno allora ne vale la pena altra telecamera che secondo me per gli interni è davvero un ottimo prodotto è la telecamera blink mini pan tilt vi viene data una telecamera da interno potete poi montarla sul suo piedistallo che è robotizzato vi dà la possibilità di ruotare la telecamera a 360 gradi muoverla in qualsiasi posizione voi vogliate tramite l'applicazione a un prezzo di 38 euro 99 da un prezzo iniziale di 59 euro e 99 la famiglia blink poi vi offre tante altre possibilità potete acquistare una due tre quelle che volete controllate in quella sessione comunque qui sotto vi lascerò un po di link vi lascerò la descrizione di quante telecamere sono che cosa comprende e il link per poterle andare ad acquistare altro prodotto interessante qui si parla praticamente di un altoparlante camuffato da eco si chiama parlando di eco pop eco pop è uno degli ultimi entrati nella famiglia eco e ha più o meno queste dimensioni davvero molto compatto l'hanno pensato per poterlo inserire magari su una mensola sul comodino ma sul comodino meglio di no perché la sua funzione è fondamentale far sentire al meglio il suono quindi la musica piuttosto che altro prezzo più basso riscontrato nell'ultimo mese attualmente a 17 euro e anche questo fa tutte le funzioni di tutti quanti gli eco ma in più a un audio migliore rispetto a tanti altri saliamo un pochettino come performance dei prodotti aggiungiamo uno schermo e abbiamo un audio spaventoso con un video da 10 pollici monitor da 10 pollici sto parlando dell'eco show di eco show 10 di terza generazione partiva da un prezzo di 269 euro 99 per arrivare a 189 euro 99 peculiarità di questo un audio fantastico grazie alla possibilità di averlo inserito all'interno di un cilindro quindi spazio a sufficienza per poter inserire delle casse performanti ma l'altra peculiarità è che se voi lo piazzate ad esempio in mezzo ad una stanza avete la possibilità di essere seguiti quando c'è una videochiamata oppure magari mentre state cucinando cosa molto utile perché io magari mi giro e posso sempre vedere la pagina che mi viene mostrata della ricetta sono tante funzioni che questo prodotto ha ed è veramente un punto di forza saliamo ancora un pochettino e andiamo un eco show 15 sono felice possessore di questo prodotto potete sia appenderlo sulla parete sia appoggiarlo sulle superfici dovete acquistare a parte un supporto il prodotto è un 15 pollici con tutte le funzionalità di tutti gli eco in più questo schermo vi dà la possibilità di personalizzare per ogni membro della famiglia la home page comunque tutto quello che vi sto dicendo se scorrete qui nel canale trovate tutti i video dedicati a questi prodotti si partiva da un prezzo di circa 300 euro attualmente in offerta 229 euro e 98 un altro prodotto che veramente mi ha entusiasmato che continua a utilizzare sempre di più senza avere problemi è eco auto di seconda generazione questo prodotto lo potete collocare in macchina vi dà la possibilità di mentre state andando a casa attivare il climatizzatore accendere la tele spegnere le luci accendere insomma fare tutto quello che potete fare in casa con la domotica di casa vostra si partiva da un prezzo di circa 70 euro attualmente lo trovate a 34 euro 99 vi posso garantire anche di questo trovate il video dedicato qui sul canale e vi posso garantire che in macchina è davvero fenomenale anche perché adesso attualmente possiamo anche collegarlo tramite l'app con wade piuttosto che google maps dirgli portami in quella via di quella città e lui ci porterà dandovi le informazioni e per quanto riguarda la parte video utilizzerà il vostro cellulare sono molteplici le offerte che potrete trovare in questi giorni fino ad arrivare a mercoledì quello che vi consiglio è continuate a cercare sulla sulla applicazione o comunque sul sito di amazon se siete degli utenti registrati amazon prime in più controllate anche la sessione delle offerte a tempo perché anche lì ci sono degli sconti molto importanti ma per quanto riguarda l'ambito della domotica questa era una parte di quello che verrà in offerta che potete comprare in offerta vi lascio qui sotto tutti i link dei prodotti che secondo me sono più appetibili e che hanno un buon prezzo per poter ampliare la gamma di prodotti a nostra disposizione nel casa nostra mi rivolgo poi ai neofiti questo è il momento giusto per poter cominciare ad entrare in questo fantastico mondo e vedrete che una volta che capirete che è molto semplice da utilizzare vi dà molti automatismi sicuramente ne approfitterete sempre di più e poi guardate l'ultimo video che abbiamo fatto dove spieghiamo che il nostro dispositivo vocale avrà delle grosse potenzialità tra circa un annetto prima arriveranno tante altre novità e lì troverete tutte le novità che renderanno il nostro dispositivo veramente qualcosa di fenomenale bene ragazzi io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo con quei prodottini che vi ho presentato ciao